Buongiorno e buona domenica tra ottobre 2021, benvenuti all'almanacco di Pavia 1 TV, 276 giorno dell'anno, trentanovesima settimana, alla fine del 2021 mancano 89 giorni. A Roma sole sorge alle 6.10 e tramonta alle 17.47 ora solare, a Milano sole sorge alle 6.25 e tramonta alle 17.58 ora solare, a Luna si leva alle 2.57 per tramontare alle 16.45. I Santi del Giorno, San Gerardo di Brogna, Abate, San Dionigi, Dario Pacittà Discepolo di San Paolo, Santa Maria Giuseppa Rossello, Religiosa. Gerardo è un nome che ha origini germani, che deriva da Gerard, formato da gaira, lancia e ardu, abile, valoroso, dal significato complessivo quindi di abile nel maneggiare la lancia. La variante Gerardo o Giraldo, tra germanico Cairoval, ha come secondo elemento la parola valda, che significa potente. In questo caso, significato complessivo è potente con la lancia. Proverbio del Giorno, tutti i gusti sono gusti. L'aforisma del Giorno è di Siracide, porgi l'orecchio al povero e rispondigli al saluto con affabilità. Accadde oggi, 1990, le due Germani si riuniscono. A circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germani tornano ad essere una sola nazione. In questa data, i cinque Lander, Brandeburgo, Mecklenburgo-Pomerania-Occidentale, Sassonia, Sassonia-Nalte-Turingia, della Repubblica Democratica tedesca, notta come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ouest. Sei nato oggi? I nati il 3 ottobre hanno sempre le antenne tese per cogliere le tendenze sociali che si sviluppano intorno a loro, e non solo seguono sempre la moda, ma spesso sono essi stessi a crearla, almeno all'interno della loro cerchia sociale. Essi amano essere aggiornati e moderni in tutti i sensi, affigliamento, casa, automobili e perfino nelle idee. D'altro canto, possiedono anche un certo senso della tradizione, alla quale sanno quando devono adeguarsi, e questa è una delle chiavi del loro successo. Compleanni famosi, 1858, Eleonora Duse, un modello universale nella storia del teatro italiano. 1959, Carmen Russo, nata a Genova, è nota nell'ambiente televisivo come ballerina e showgirl. Se avete altre notizie e curiosità, inviatele come sempre a info.pavia1tv.it, oppure via Whatsapp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi, e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV. E buona domenica. Grazie per essere stati con noi, e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV. Grazie per essere stati con noi.